Devi riscaldare il tuo campo di paddle? Ecco la soluzione giusta per te. Scegli Aki, la caldaia a condensazione Up&Group con Aerothermi, e avrai il clima ideale. In funzione delle dimensioni e del numero di campi, puoi decidere tra una vasta gamma di modelli da 32 a 100 kW. Ottimizza la distribuzione del calore all'interno della struttura, scegliendo uno o più aerotermi. Oggi, nella nuova versione con ventilatori elettronici, risparmia sui consumi e migliora il comfort. E chi comanda? SmartWeb, il comando intelligente di Up&Group. SmartWeb svolge la funzione di crono termostato, garantendo sempre il benessere all'interno della struttura. Adesso i giocatori potranno allenarsi in un clima ideale.